Sono Erio Colani, il Presidente dell'Associazione della Comunità Albanese RINIA di Riva del Garda. Noi abbiamo la sede in via Scaligero 2 e siamo costituiti nel 2011 con oltre 40 partecipanti. Il nostro obiettivo dell'Associazione rimane ed è sempre la solidarietà internazionale. Ogni anno noi svolgiamo diversi progetti di cooperazione allo sviluppo nei Balcani. Invece per la comunità in zona facciamo due attività molto importanti. Uno a giugno che è il Festival dell'Intercultura svolto in piazza con oltre 3.000 partecipanti. L'altro rimane a dicembre la Festa dei Giovani che è aperta a tutti i giovani delle comunità straniere in comunità di Alto Garda e Ledro. E per quanto riguarda sulle reti sociali noi veniamo seguiti da oltre 3.000 seguaci sulle reti. E abbiamo anche la sede in Albania con oltre 40 volontariati.